lo stato maggiore ho avuto vari incarichi perché all'inizio sono stato all'ufficio piani che è l'ufficio dottrina eccetera l'ufficio di studio un po no delle teste d'uovo eccetera è stato utile perché ho imparato un sacco di cose sono stato molto con in america in germania all'estero l'amato no ed è stato un periodo interessante poi sono diventato da colonnello nel nel 1976 primo gennaio 76 non diventato colonnello e capo di questo ufficio capo del primo ufficio piani poi da lì sono venuto a pisa e ap no prima ancora prima sono subito dopo subito dopo sono arrivato a pisa perché ancora non potevo volare con gli avioggetti no avevo rivolato con gli avioggetti anche con le f 104 però mi ero rotto di nuovo la gamba e dove mi ero rotto la gamba è un giorno che ero con paolo schievano a casa di ramaccia qui a casa al calo palocco che era il comandante della scuola di alghero e scendendo le scale di ramazza proprio io non piegavo la gamba non la piego neanche adesso più di tanto è acceduto quest'osso qui insomma sono fatto altri mesi quindi dove andare a fare questo comando di storm o è strano a grossetto ero destinato invece no e mi hanno mandato a pisa pisa non stato contento di andare a pisa perché intanto già volavo col 119 ero già abilitato col g222 anche perché ero ero ci voleva un reparto sperimentale di volo quindi sono stato volentieri a pisa pisa sono capitato sono arrivato come capo capo del reparto volo comandante reparto volo e poi sono diventato vice comandante e poi comandante da colonnello però quindi interinale perché nel frattempo c'è stato quel problema dei democratici no pisa dei dei sotto ufficiali le rivoluzioni a pisa ghedi insomma state varie basi dove c'erano delle proteste che erano patrocinate da pertini quindi era anche difficile riuscire io però dovevo applicare i regolamenti le leggi nuove ancora non c'erano poi quindi devo applicare quindi c'è stato un periodo difficile anche a pisa con la gente però molto brava molto professionale e anche quelli che pro di protestatari diciamo io li chiamavo i sufficiali democratici anche quelli operativamente non hanno mai perso un colpo hanno sempre fatto loro dovere in maniera eccezionale non avevano tutti i torti poi sotto molti aspetti però non è stata una cosa fatta male e parallela più o meno alla questione dei controllori no nello stesso periodo in cui i controllori del traffico aereo sono stati civili ora io dico non costringete questi poveri comandanti a stare tra in culi nel martello no infatti è un periodo in cui mi sono ribellato un po anche con le mie superiori autorità per fortuna non ne ho fatto in alcune occasioni non ne ho mai risentito perché ho sempre ragione vabbè comunque un periodo che ricordo bellissimo molto bene quello di pisa anche lì tante avventure perché le vere avventure si passano a pisa non lo sa nessuno ma quando si va in giro stare in giro col 119 o anche come il con il c 130 a fare delle missioni particolari non so io ero ero vice comandante a un certo punto e c'era da andare in iran c'era da andare in iran perché c'era la rivoluzione il comeini non c'era ancora quindi c'era da andare a organizzare la l'evacuazione degli italiani allora in iran c'erano 17 mila italiani tanti quindi sono stato mandato là assieme a un ufficiale l'esercito facendo tutta la pianificazione assieme alle ditte con il telefono e ditte facendo la una catena di allertamento praticamente non stato da due mesi borghese non nascosto facendolo 007 senza baffi e abbiamo organizzato tutto questo rientro degli italiani quando è tornato comeini è scattato il piano e da 17 mila sono rimasti circa 1500 è stato un bel lavoro anche quello poi lì abbiamo contribuito a eseguirlo anche perché sono tornato a pisa e con il 130 abbiamo fatto cose pazze perché entravamo di notte in territorio iraniano senza piano di volo senza dirlo a nessuno non c'era contro non c'era nulla e abbiamo portato via della gente anche noi parecchia gente una volta mi ricordo abbiamo atterrato su una strada un'autostrada in costruzione la stava costruendo col 130 stava costruendo l'itastrade abbiamo atterrato lì di notte e hanno hanno acceso i fuochi sull'autostrada lì hanno acceso i fuochi e abbiamo atterrato facendo attraversando lì era una bassa quota e siamo entrati lì fra queste montagne e abbiamo atterrato lì a in questa zona insomma dove è solo che erano superiori al carico erano erano un centinaio questi operai insomma siamo partiti sovraccarichi da questa autostrada senza spegnere i motori li abbiamo riportati via li abbiamo riportati non mi ricordo dove ma mi pare in kuwait pare in cui una volta siamo andati anche a bagdad per posizionarsi per fare un altro di questi colpi poi però sono andati via non tutti col 130 insomma molti con altri mezzi molti con i mezzi propri molti con i mezzi le ditta molti con le navi insomma per tutti avevamo fatto un piano di evacuazione anche per l'ambasciata è stato un bel lavoro e la prima volta che mi è capitato di andare a pianificare qualcosa e poi ritornare al mio posto e metterla in atto nel frattempo ero diventato comandante però della brigata quindi potevo muovermi un po di meno un'altra di queste avventure con la 46esima ma ancora adesso nelle avventure notevoli non ne parla mai è quando è successa la crisi dello shaba ed era il giugno prima dell'iran in iran siamo andati in ottobre del 78 e lo shaba siamo andati in giugno c'era stato l'ecidio di coluesi c'era lo shaba che si stava separando i comunisti tedeschi che sobillavano gli angolani gli angolani erano entrati nel congo ora prendessi loro le miniere dello shaba insomma alla fine è rimasto ucciso qualcuno hanno sequestrato una quarantina di italiani e mi ricordo che ero sempre era ancora vice comandante giugno in giugno sì e c'era zeno tascio che era che era comandante in quel periodo poi è andato via sono rimasto io da solo a fare il vice comandante comando del reparto volo e il comandante colonnello spendibile e allora anche lì sono andato io nello shaba con 130 anche lì grande siamo piazzati a kinshasa nel congo e lì abbiamo aspettato si tranquillizzi la situazione e abbiamo atterrato a vicino a coluesi non mi ricordo come si chiamava la base adesso c'era una base prima si chiama camina abbiamo abbiamo aspettato anche lì e poi su questa base da lì abbiamo fatto sia abbiamo dormito lì mi ricordo la sera abbiamo concordato di andare con i francesi con i paracadutisti francesi che erano lì di andare a prendere questi questi prigionieri dei congolesi e mi ricordo che mi hanno raccomandato i congolesi questi erano prigionieri degli angolani però non mi hanno raccomandato guarda dice tu sei il comandante vai dentro tu il campo tu tieni il beretto in testa agli altri dell'equipaggio gli altri due tre avevamo il mitra le bombe a mano tutto quanto e siamo entrati in questo campo dopo che i francesi del deuxième rap avevano preso qualche accordo con i congolesi quali avevano cercato di concordare qualcosa al nostro arrivo per la liberazione con gli angolani alla fine sono siamo entrati lì hanno detto guarda tu tieni il cappello in testa così vedono se il capo il mitra le armi le tenete in evidenza tutto quanto e ti presentiamo noi quello con cui parlare e ho parlato questi qua non vedevano l'ora di liberarsene in realtà se li andati subito lì c'era uno del consulato con dei di pullman li abbiamo portati a questa base che si chiamava non lo sottoscritto da qualche parte era elisabeth will però non si chiamava più così avevano nome è un altro nome avranno il nome originale diciamo del congo e siamo partiti è venuto via con noi anche il console in questo 130 mi ricordo abbiamo decollato verso kinshasa kinshasa e leopold will e sopra la foresta e ho avuto una perdita di carburante al motore esterno destro numero 4 130 a delle drive bay delle baie che devono rimanere a essi l'ala è un serbatoio integrale dentro vicino ai motori ci sono dei pozzi asciutti se c'è una perdita lì viene segnalata subito e bisogna spegnere quel motore difatti ho spento il motore sta in desto dopo un attimo e ho perso un po di quota no dopo un attimo viene sul console che era a bordo quando andate c'è un motore fermo come fermo dico si dice all'elica così e dico l'ho spento io quando andate matto questo qua era impazzito come come il comandante mi spegne i motori invece da trimotore andava benissimo il 130 e anche lì abbiamo atterrato a kinshasa a kinshasa ho trovato il sotto capo dell'aeronautica congolese che aveva fatto la scuola di guerra con me il quale ha messo tutti a disposizione e avevano i 130 anche loro mi hanno aggiustato la drive bay però dice ti devo chiedere una cosa aveva un macchie 326 k danneggiato dalla guerra di tutto me lo porteresti a venegono questo qui ti aggiusto tutto però tu mi porti il macchie a venegono abbiamo tolto le ali insomma caricato a stomacchi ed è finita anche questa avventura una delle tante avventure pisane insomma non è veramente particolare